Buongiorno e bentrovati. Buona domenica 7 aprile, seconda di Pasqua, definita in albis depositis, cioè quando si dipongono le vesti bianche, domenica della Divina Misericordia. In questa grande festa istituita da Giovanni Paolo II contempliamo il grande mistero di Dio che manifesta la sua misericordia in Cristo risorto e ascoltiamo la grandiosa pagina di Giovanni XX dell'incredulità di Sant'Ommaso. Ecco il Vangelo di oggi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, la sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro, pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo, pace a voi, come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro, ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli, abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro, se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. Otto giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse, pace a voi. Poi disse a Tommaso, metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco e non essere incredulo. Ma credente, gli dispose Tommaso, mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse, perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore L'episodio famosissimo, raccontato in Giovanni XX, viene sempre letto nella domenica seconda di Pasqua, a una settimana esatta dalla Pasqua, perché la menzione temporale del Vangelo è precisa. Otto giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e c'era anche Tommaso. Otto giorni dopo, come oggi, nell'ottavo giorno dall'apparizione pasquale. Otto giorni dopo. Quindi è ancora domenica, come oggi, e in questa domenica di nuovo il Signore appare. Ed è interessante capire questo, che la domenica e che il ritmo dell'incontro domenicale l'ha voluto Gesù Cristo. La domenica è il giorno del Signore risorto, perché Gesù Cristo ha scelto di incontrare i discepoli precisamente in quel giorno. E la Chiesa continua ad essere fedele a questa memoria, celebrando l'Eucaristia in maniera speciale, con particolare solennità, alla domenica. Anche il precetto domenicale trova qui la sua radice e il suo motivo. La sua incomprensione e il fatto che molti battezzati, la maggior parte dei battezzati, perlomeno in Occidente, non vadano a messa la domenica, vuol dire non comprendere la verità della Ressurrezione del Signore. E quanto sia grande il suo amore per noi. E allora chiediamo la grazia di poter fare questa esperienza dell'incontro che ha fatto Tommaso, che passa dall'incredulità alla fede e giunge a dire a Gesù, mio Signore è mio Dio. Che bello poterlo dire all'elevazione, quando il sacerdote alza l'ostia, mio Signore è mio Dio. Che il Signore aumenti la nostra fede. Buona giornata, buona domenica. Affidiamoci a Gesù misericordioso. Gesù, confido in te. Sia lodato Gesù Cristo.